Al collasso l'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, un nosocomio che già serve un bacino di utenza importante a cavallo tra le province di Salerno e Napoli, negli ultimi giorni è andato nuovamente in grave difficoltà per l'assistenza e di ricoveri. Non ci sono posti letto e nell'impossibilità di accogliere il reparto, soprattutto nell'area chirurgica, è stato lanciato l'appello al 118 a trasportare a Sarno soltanto pazienti in codice rosso. L'allarme è di un medico che ha spiegato quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Dobbiamo fare 4 ricoveri internisti, ha detto, e 5 in area chirurgica, ma non ci sono posti letto in tutta la regione Campania. Non possiamo più accogliere pazienti a Sarno, ma solo codici rossi. Si attende un intervento dei vertici dell'ASL per cercare di capire come procedere per l'ospedale di Sarno. Era nell'aria, ma ora è ufficiale. La festa di San Giovanni quest'anno non si farà. Un comunicato sul profilo social dell'Associazione San Giovanni Battista ha annunciato che, con molto rammarico, a causa dell'emergenza Covid-19, i prossimi festeggiamenti in onore del Santo Patrono non avranno luogo. Eventuali comunicazioni in merito alle funzioni religiose saranno annunciate dalle autorità ecclesiastiche. A distanza di circa due anni dall'affidamento ultraventennale della gestione della pubblica illuminazione a una concessionaria privata, arriva la sentenza del TAR di Salerno, sezione prima, che di fatto ripristina la titolarità di impianti a gestione in capo al Comune di Angri. I giudici amministrativi hanno infatti respinto il ricorso presentato dall'impresa Fenix Consorzio Stabile contro la risoluzione del contratto disposta dal commissario prefettizio Alessandro Valeri nel settembre dello scorso anno. Nella fase cautelare il Tribunale amministrativo aveva accordato la sospensione del provvedimento per cui la società concessionaria aveva continuato la gestione degli impianti ma nel merito dell'avvertenza, discussa mercoledì 27 maggio, i giudici hanno dato ragione al Comune di Angri. In adempimenti contrattuali ed altre irregolarità avrebbero determinato la decisione del Tribunale amministrativo regionale. Naturalmente la società concessionaria estromessa dall'appalto potrà presentare appello al Consiglio di Stato per cui l'avvertenza giudiziaria potrebbe trascinarsi ancora a lungo.